I festeggiamenti in onore della Madonna della Libera durano praticamente per tutto il mese di maggio, scrive Rino Panza, storico ed appassionato cultore dei riti e delle tradizioni peligne dell'intero Abruzzo, anche se il clou è rappresentato dalla prima domenica del mese. Anche quest'anno i festeggiamenti durano tutto il mese di maggio, anzi sono già cominciati. Il programma questa volta, soprattutto nel campo civile, è più contenuto, causa la nota crisi economica che attanaglia il nostro paese. Abbiamo cercato di fare un bel programma perché la Madonna merita una grande festa. Il programma religioso è sempre stato quello degli ultimi anni. Quello civile purtroppo abbiamo un po' dovuto ridimensionare il tutto, dadosi la grossa crisi che ci circonda qui in Valle Peligne. Però abbiamo fatto del nostro, infatti abbiamo riempito quasi dieci serate e ogni sera c'è un'attrazione. Gran parte delle attrazioni sono anche risorse locali, quindi di Prato e del circondario. E poi nulla, abbiamo fatto questa cosa insieme alla signora Rosa Carducci, che è stata l'ideatrice e la realizzatrice di una revocazione del quadro della Madonna. Questa si terrà il venerdì 10 alle ore 21 e pensiamo di farla diventare a breve tempo l'attrazione principale della nostra festa della Madonna. Il programma religioso non subisce variazioni rispetto al passato, ma rappresenta per i pratolani la vera essenza dei festeggiamenti. L'affetto e la commozione nei pratolani e anche non pratolani è tanta così in occasione della festa della Madonna. Io questa mattina ho benedetto i mazzieri, i giovani mazzieri. Avevo in chiesa un centinaio di giovani e ho tirato un po' le orecchie a questi giovani, perché purtroppo capita che io ne vedo tanti in questa occasione e poi durante il resto dell'anno non li vedo più. E questo è un po' anche per quanto riguarda la gente. Hanno tanta devozione per la Madonna della Libera, ma poi per il resto dell'anno questa devozione non scompare, perché nel loro cuore sicuramente rimane, però non si manifesta con una partecipazione assidua alla vita della comunità cristiana. Nonostante le ristrettezze economiche, il gruppo di donne che raccoglie fondi per la realizzazione dei festeggiamenti ha trovato le risorse necessarie. Il quello della Mastra maggiormente è quello di raccogliere i soldi. E in questo periodo di crisi, capito, i soldi molto molto pochi. Per fare tutto si fa. Ma io ringrazio pure voi sul Monesi, perché anche voi ci avete dato una grande mano. Questo è un periodo importante per i pratolani, ma non solo. Sappiamo tutti che questa è una festa che sta assumendo un livello extra-regionale. Fondamentalmente ricordo a tutti che c'è questo gemellaggio importante alle porte con Giochia dei Marsi, che è un pellegrinaggio storico che affonda ormai le radici in tempi in memory. E quindi, come dire, noi siamo pronti per accogliere tanti pellegrini, tante persone della Valle Perigna, e non solo, che vorranno venire a trovarci. Quasi tutto pronto, il Comitato ha fatto il suo lavoro, noi come amministrazione stiamo lavorando per la logistica, quindi per raccogliere tutti nella massima sicurezza e soprattutto per garantire un servizio continuo e quotidiano, ma anche e soprattutto per la pulizia, che non sarà cosa da poco.